E Radio Radicale, siamo con il senatore Calenda, il terzo polo per parlare della manovra. Allora, voi non siete soddisfatti, avete fatto parecchi rilievi sulla sanità, su alcuni aspetti della manovra. Alla Camera, diciamo, non avete partecipato allo scontro in Commissione. Allora, il suo giudizio qual è? È negativo o interlocutoria? No, no, è pienamente negativo. Intanto perché non mette i soldi sulle due grandi emergenze italiane. La prima assoluta è la sanità, che sta letteralmente andando a pezzi, dove gli italiani spendono 41 miliardi per curarsi privatamente, dove ci sono 20 mesi per un'attacca, due anni per una mammografia. Dunque, questo era doveroso anche nei confronti dei medici e degli infermieri che ci hanno salvato durante il Covid. E la seconda cosa è che manca tutto il pezzo per i giovani che noi avevamo proposto, tra cui concentrare il taglio del cuno fiscale su di loro. Ma perché? Perché se ne vanno. Se ne vanno perché gli stipendi sono troppo bassi e quello che succede è che nessuno pagherà le pensioni e la sanità in Italia. Quindi un taglio più sostanzioso avrebbe fatto restare i giovani, secondo lei? Beh, certo. Se lei concentrava lo stesso importo che è stato distribuito su tutti, sui giovani, voleva dire azzerare le tasse fino a 25 anni, cioè tasse zero, e diminuirli del 50% fino a 30 anni. Quindi è un taglio sostanzioso. Voleva dire molti più soldi in tasca ai giovani e la possibilità di tenerli qui. E soprattutto anche delle famiglie di smetterli di doverli aiutare, perché ancora qui è una partita di giro. Tu fai un provvedimento per mandare in pensione 40.000 persone in anticipo che costa un sacco di soldi. Ma poi quelle stesse persone dovranno pagarsi la sanità e aiutare i loro figli a mantenersi. Che senso ha? Ritiene che la situazione economica per il 2023 sarà positiva anche per i costi delle bollette, sulla quale è stato speso gran parte del denaro disponibile in questa legge di bilancio. E cosa pensa del price cap europeo che ha raggiunto? Tanto anche su questo noi avevamo suggerito un meccanismo diverso. Bisognava fare lo sganciamento dalle rinnovabili al gas, perché oggi tu hai un impianto rinnovabile, la tua energia la vendi indicizzata al gas e quindi ci fai una quantità di soldi in vera e conda. Dunque doveva essere fatto questo. Si fa solo con un DPCM? Si può fare facilmente e non costa niente ma apporta 6 miliardi di euro. E con quei 6 miliardi noi abbiamo detto che potete a quel punto intervenire facendo uno sconto nazionale al prezzo del gas in energia del 50%. Che vuol dire che tu non paghi la bolletta, cioè paghi meno la bolletta, non che la paghi per intero e poi hai il credito d'imposta con cui recuperi, perché molto spesso non ci arrivi vivo al credito d'imposta. Tutte queste cose noi le abbiamo dette in modo molto collaborativo, pragmatico. Io ho fatto una riunione col MEF, abbiamo cercato di dare aiuto, ma non per aiutare fra la stampella del governo, ma perché è il lavoro dell'opposizione. Non è stato recepito niente, non perché erano contrari, anche hanno detto non ce la facciamo, non ci abbiamo pensato come farlo, ci vuole più tempo, ma sono dieci anni che stanno lì all'opposizione. Che hanno fatto? Hanno giocato a burraco, che hanno fatto? Ho capito. Senta, al di là di questo lei pensa che si possa implementare il rapporto col governo? Allora, lei aveva incontrato la Meloni qualche settimana fa, ieri c'è stato questo ordine del giorno sullo spazio corrotti, molti pensano che su alcuni temi, solo su alcuni temi collaborerete. Su alcuni temi se presentano una cosa su cui noi siamo sempre stati d'accordo, cioè l'abolizione della buona fede, certo che voteremo a favore, perché non dovremo, solo perché lo presentano loro. Io penso che questo modo è molto infantile di fare politica, per cui non conta la cosa che si vota, ma conta chi la presenta. Non siamo al bar qui, cioè né in una scuola elementare, siamo al Senato della Repubblica e votiamo quello che è giusto, chiunque lo presenti. Pensate di ottenere qualche concessione sul decreto aiuti quater che arriva? Io penso che questo governo è in uno stato confusionale totale, che si dimostra non pronto, semplicemente. Perché poi succede sempre, è successo con il 5 Stelle e la Lega, quando stanno all'opposizione e promettono la qualsiasi, quando si vanno al governo fanno casino. L'ultima domanda riguarda il codice sulle ONG. Come la trova concorda o si... No, lo devo guardare, lo devo leggere, secondo me è giusto che le ONG rispettino alcune regole. Questa è una cosa che era già partita con Marco Minite, e io la condivido. Dopodiché devo guardarla, approfondirla, non voglio commentarla così. Comunque gli multerebbe lei per come si comporta? No, no, è troppo generico. Quando si comportano in modo inappropriato la multa c'è. Chiarissimo. Grazie, grazie al senatore Calenda.